... Qualcuno non riesce oltre a Lauricella e Ferraresi? Catanoso. Lauricella ha votato, ancorché in dissenso dal gruppo. Catanoso. Malisani. Onorevole Malisani, proviamo a votare. È sempre lo stesso gioco. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva, siamo all'articolo 9. Relatore, allora, 9.50 russo. Contrario, 9.50 russo contrario. Il 9.60 è stato ritirato dalla presentatrice. 9.51 guidesi contrario. Sì. Identici 9.52, 9.53. Invito e ritiro a parere contrario. 9.54. Invito e ritiro a parere contrario. Allora, 9.100 della Commissione. Parere favorevole. 9.55, Sciullian. Invito e ritiro a parere contrario. 9.56, Romanini è identico. 9.57, russo. Invito e ritiro a parere contrario. Perfetto. Governo. Conforme al relatore. Perfetto. Allora, siamo al 9.50 russo.